Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Pokemon Online con Dale Tette Salutiamo questo nostro amichetto qui che non sappiamo chi è e iniziamo questa nostra battaglia questo come potete vedere è un aspetta che cos'era questo qua ah si era un rain team, no un cazzo era un sun team fortuna che quella merda lì di Kyogre non ci ha ucciso perché abbiamo un cazzo qui sotto allora usiamo l'Hseed qui sperando che non ci uccida nessuno e eccomi ragazzi scusate il taglio non ho fatto nulla ma andiamo Ea tranne adesso e andiamo giù di Earth Power e qui facciamo così si sono io sono andato di Pokemon allora ragazzi come potete vedere non c'è Alessio scusate stavo mangiando un pezzo di frutta non c'è Alessio perché non riusciamo a trovarci e la cosa mi dispiace molto ma non ho intenzione di stoppare la serie quindi come potete vedere la porto avanti con persone prese a caso con persone prese a caso sui server di Pokemon Online scusate se non ci sono stato questi due giorni perché sono stato molto impegnato con l'università e con con che cosa con ho un mio ricordo ah si con alcune cose mie private perché sono fidanzato adesso sono una persona molto più bella e ciao ma che culo ciao Bliss questo shackle mi sta facendo buttare il sangue e deve andarsene via e sto ieri ho rivisto la mia ragazza dopo una settimana perché era andata in Belgio per un viaggio di studi che ha vinto non so come e non mi interessa no scherzo tvb e deoxys attenzione e noi andiamo così e facciamo questo qui è bug rock ma se io facessi così no ho sbagliato perché lui è di tipo con le otto vabbè sono la testa di cazzo io intanto mi mangio la frutta così cresco sano e forte vaffanculo deoxys sasback non so perché ho un sasback in squadra ma boh non lo so e non mi interessa facciamo ma si no sono uno stronzo cancella cancella merda sono uno stronzo così e così dovrei killarlo si infatti allora adesso siamo 3 contro 3 però lui è un po' vantaggiato perché io due pokemon li ho già sfanculizzati the sunlight flooded quindi noi lo usiamo di nuovo e gli usiamo no scherzo usiamogli si così e così yeee grande dade attenzione dade prova la rimonta 3 a 2 per lui allora ragazzi dato che comunque di solito in questi video così c'è Alessio con me ma purtroppo non riusciamo a trovarci ultimamente ho deciso di a parte continuarla da solo ho deciso anche di praticamente mettere la musichetta in questi video giusto per non farvi annoiare e comunque far merda e noi sbicciamo giusto per non farvi annoiare quindi io metto qualche musichetta senza copyright così non mi sfondano l'ano sul canale ditemi cosa ne pensate di questa serie se vi piace e se siete interessati potete praticamente dirmelo così prima di registrare questa questi mandiamo sul no sono uno stronzo facciamo così intanto comunque non va bene nessuno aspetta ma dato che facciamo così e così ditemi se la serie vi interessa così io prima di scrivere se volete partecipare prima di registrare se volete partecipare a qualche video me lo dite e io lo scrivo sulla pagina che sto per registrare questa serie che mi trovate su tizio e caio server quindi potete venirmi a sfidare e così via ringraziamolo grazie mille e non ce l'ha fatto scrivere come potete vedere non c'è un cazzo adesso qua dietro io metto un attimo in pausa facciamo un'altra sfida e stoppiamo il video magari cambiamo anche team vi faccio vedere l'altro a tra poco ok ragazzi eccoci questo è il mio rain team un team che mi piace davvero molto e cerchiamo di non fare più di merda anche se la prima partita l'abbiamo vinta contro quel francesco che porca puttana come cazzo ha fatto a usare vabbè facciamo così facciamo di nuovo così qui e qua facciamo così cross shop attenzione non mi uccidere please grazie madonna resta di staminchia allora facciamo così ho capito diamogli tutte e due no ha missato vaffanculo mi sa che sto team ho proprio sbagliato credo di eh vabbè sono una testa di cazzo pure io però ma usiamolo qui e vaffanculo e qui facciamo focus punch ovviamente il motorino sotto casa mia deve passare sempre madò il sostituto no sostituto no usiamolo di qua eh che cazzo no ho sbagliato proprio mi sa che mi fa 6 a 0 questo qui ho sbagliato proprio a partire cazzo non me l'aspettavo andiamo giù di psichico e di fulmine penso di di ucciderlo penso eh a meno che non usi sostituto ma che cazzo di difesa c'ha sto cosa gigatrain e thunder vai che partita di merda mi eh vabbè si ciao oh che bello abbiamo evitato il 6 a 0 ed è così che l'udicolo portò avanti tutta la squadra capovolse tutta la situazione sarebbe un qualche cosa di stupendo dai 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 please eh vabbè ci abbiamo provato eh vabbè ragazzi questa seconda partita è andata di merda spero che comunque il video vi sia piaciuto se siete interessati alla serie ditemelo se volete partecipare in qualche video così o prima di registrarla lo scrivo su Focamon e vi dico il server dove potete trovarmi magari ci organizziamo possiamo anche vi faccio anche parlare nel video magari ci organizziamo su TS Skype dove vi pare ehm mi raccomando continuate a seguirmi siamo quasi arrivati ai 2400 iscritti eh oggi uscirà solo Pokémon Online e non Pokémon Cristallo perché ho avuto dei problemi con il caricamento però l'ho già registrato ed è già pronto per domani eh lo vedrete domani penso verso le sette e mezza più o meno perché torno dall'università alle 6 appena torno lo uppo cioè in realtà potrei upparlo anche adesso però mi scoccio che altro no non basta basta così va bene così come potete vedere in questo video non c'era webcam perché non sapevo dove cazzo metterla dato che ho ristretto il quadrato di registrazione e niente che il tetto siano con voi sempre datevi saluto spero apprezzate la musica in sottofondo ciao a tutti ciao ciao